Dal campetto con gli amici all'azzurro della nazionale, viaggio nei luoghi dove i bambini che sognano di diventare calciatore sono partiti per raggiungere il tetto del mondo. 1982-2022, 40 anni e sentirli, adesso! Italia Football Club, un programma di Vito Romaniello. Alessandro Volta da Como ha inventato la pila e scoperto il gas metano. L'8 settembre 1927, in occasione del centenario della sua morte, sulla vetta del Monte Trecroci, è inaugurato il Faro Voltiano, che di notte emette luce verde, bianca e rossa, i colori della bandiera italiana. La torre è alta 29 metri, una scala a chiocciola di 143 gradini porta in cima, da dove si possono vedere l'arco alpino occidentale, la pianura padana e gli appennini. Siamo a Brunate, il balcone sulle Alpi, paese collegato alla città da una funicolare, sulla quale sale il piccolo Claudio, che di cognome fa gentile, nato a Tripoli da genitori siciliani che si sono trasferiti nel Comasco quando ha otto anni. Gli osservatori del Varese Calcio lo notano nel Maslianico, a grinta e tenacia, lotta su ogni pallone come faceva nei vicoli libici. Strada e oratorio sono la sua prima scuola di calcio. Il mio primo ricordo è proprio quello, che quando tu giochi all'oratorio, giochi con entusiasmo, giochi spensierato, perché il calcio, lo sport nel suo, ti dà motivo di essere te stesso, di dare prova di quanto sei capace a fare una disciplina. Devo dire la sincerità, mi divertivo molto di più all'oratorio, che quando sono arrivato, perché quando tu vai avanti c'è anche la responsabilità. Non è più un gioco il calcio, quando sei professionista, è un lavoro. Il lavoro ti porta a dare sempre il massimo e quindi per me la miglior fase è stata, più bei ricordi quando giocavo all'oratorio con i miei compagni. Il difensore Claudio Gentile è campione del mondo con l'Italia di Berzot nel 1982, dopo aver vinto il suo quinto scudetto con la Juventus, nel primo campionato dove le squadre possono avere uno sponsor sulla maglia e quando la Serie A sta diventando il palcoscenico preferito dai più grandi calciatori del momento. La qualità era diversa, migliore a mio avviso, non voglio essere di parte, però a detta di tutti. Nel senso che c'erano più giocatori di qualità, oggi il calcio italiano sta soffrendo moltissimo. Bisogna partire dal basso, molti giovani vanno più curati, più responsabilizzati, cosa che invece adesso non avviene più. Essere considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio italiano per Claudio Gentile è motivo di doppia soddisfazione, perché al Mondiale di Spagna e nella Serie A di allora ha dovuto vedersela con alcuni fra i più grandi calciatori di sempre, da Maradona a Zico a Rummenighe. Maradona, Zico, Falcao, Serezo, Junior, Kroll, sono venuti tutti in Italia per avere il marchio di dire sono un giocatore valido ed era il campionato dove tutti ambivano a venire perché era una prova, cioè la prova della propria capacità. Noi siamo stati in quegli anni forse i migliori e quindi c'è questa grande soddisfazione di essere stati un po' dei maestri anche per gli stranieri, non solo per i nostri giocatori. Mai avuto favore, anzi ho sempre accettato le sfide e sono stato messo a prova anche con la mia squadra del club, con la Juve contro personaggi di grande livello in Champions. Gentile, insieme al portiere Zoff, al terzino sinistro Cabrini e al libero Scirea, costituisce una delle migliori difese di sempre nella Juventus e in nazionale. Quando Bergiotti mi disse di marcare Maradona, beh, certo, sentivo che avevo una grande responsabilità, però nello stesso tempo ero anche molto orgoglioso che avesse scelto me per una marcatura così importante e che poi sul campo ho dato la prova che insomma aveva visto giusto. Purtroppo io faccio parte di una classifica dove sono tra il quarto e il quinto più cattivo. Io non ho mai avuto un'espulsione per gioco violento, ho avuto una sola espulsione per un fallo di mano in una semifinale di Coppa dei Campioni. È un'etichetta che mi hanno appiccicato ingiustamente, ma che nello stesso tempo però mi ha dato anche tante motivazioni, perché sempre di più volevo dimostrare che non ero quel giocatore, come ero definito, violento, ma un giocatore arcinio, grintoso, ma che rispettava le regole. Come è accaduto in campo, Claudio Gentile ottiene successi azzurri anche in panchina, quando prende il posto di Marco Tardelli, campione del mondo in Spagna con lui, alla guida dell'Under 21. Dimostra un fiuto particolare nello scegliere i giovani. Nel 2004 vince l'Europeo di categoria e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene. I giovani devono avere una consapevolezza che si arriva perché si ha dei mezzi e non perché si passa attraverso le raccomandazioni, che sono un fallimento. Io l'ho provato sulla mia pelle con l'Under 21, non ho voluto dare retta alle pressioni che ricevevo per chiamare dei ragazzi, procuratori, società, perché quando un ragazzo giovane va nell'Under 21 il prezzo si triplica. Tutti vorrebbero essere... Io ho detto no a quel sistema, ho fatto una politica di meritocrazia, tanto è vero che ho vinto l'Europeo, ma ho vinto quello che non ha vinto nessuno, la medaglia olimpica. L'ultimo che l'ha vinto è stato Pozzo nel 1936. Il gusto dello sport La pasta è quella che ha segnato questo paese come la migliore nel campo dei cibi, la pasta asciutta. Quando andavamo all'estero mi ricordo che siccome ci portavamo noi, la Juventus, quando la nazionale andava all'estero si portava dietro la pasta e il pomodoro perché eravamo gli unici a farlo in un certo modo e poi è diventato un piatto internazionale dove molti stranieri quando vengono in Italia è la prima cosa che chiedono. A me piace il pomodoro molto, a volte lo unisco anche con il ragù, però il pomodoro è quello insomma il classico piatto italiano che ha avuto successo in tutto il mondo. Pasta asciutta, primo piatto che a differenza delle minestre viene scolato dall'acqua e subito condito. Piatto che, come la nazionale di calcio, ha il potere di unire l'Italia. La pasta è cultura, atmosfera, cinema, musica, letteratura, protetta dalle contraffazioni e tipica di ogni regione. La pasta io sono un po' influenzato perché nel senso che sono per metà modenese quindi per me quando si parla di pasta è pasta fresca. Pasta secca ho fatto dei grandi studi anche a Gragnano, avendo grandi amici pastai. Sergio Barzetti, cuoco e maestro di cucina che sul biglietto da visita ha scritto cuciniere esperto. È un grande sostenitore delle materie prime italiane e per quanto riguarda la pasta il riferimento naturale è al grano. Un tassello importante che dobbiamo confermare e consolidare è il fatto che poi tutto provenga dai grani, il fatto che bisogna esaltare i grani, i grani italiani, il fatto che poi si arriva alla trasformazione della pasta che è un piatto principe come risotto. Salutiamo Claudio Gentile e Sergio Barzetti e riprendiamo il nostro viaggio verso una nuova città per giocare.